Sono passati ormai cent'anni da quello che è considerato il primo genocidio moderno. Sono passati ormai cent'anni, però la ferita è ancora aperta. Stiamo parlando del genocidio degli armeni, una ferita che si sta ancora rimarginando e del quale si è parlato oggi assieme agli studenti dei comprensivi sandonatesi qui al centro da Vinci. Un appuntamento ricorrente, quello con le giornate della storia, organizzate dal centro di documentazione Aldo Mori. Prima l'unità d'Italia, poi l'emigrazione dal Veneto e la Belle Epoque. Ora, nell'ambito del centenario della Grande Guerra, si ricorda il genocidio degli armeni, quello che viene considerato il primo genocidio della storia moderna. Un incontro al centro culturale da Vinci, dedicato soprattutto ai ragazzi delle scuole superiori, con l'intervento del presidente dell'associazione Italia-Armenia. È un intervento rivolto a degli studenti, quindi prima di tutto si informa, si dà un po' un contenuto di quella che è la verità storica di questo evento, di cui quest'anno ricorre il centenario. E poi cercheremo di capire che senso ha e perché parlarne dopo cento anni. E quindi capire quanto i problemi di allora possono essere ancora attuali ed importanti anche da approfondire. Soprattutto per dei ragazzi, dei giovani che hanno sempre bisogno, prima di tutto di capire e poi di ragionare sulle questioni che ci agitano. Un grande intervento da parte delle scuole. Da parte delle scuole, perché diventano operative, cioè traducono attraverso rappresentazione, ricerca, perché il nostro centro è di ricerca, poi attraverso espressioni corporee, canti, eccetera, traducono le tematiche di storia contemporanea. Per questo poi anche le rappresentazioni, eccetera, vengono svolte nel territorio e per le mostre ci avvaliamo sempre della collaborazione dei musei civici, che sono parte attiva e importante sempre del nostro operato. Un genocidio, quello degli armeni, che per cento anni è stato vittima del negazionismo, prima del governo turco e poi dei sopravvissuti armeni stessi, portando così ad una scarsa conoscenza di eventi drammatici che hanno segnato la storia non solo del popolo armeno, ma anche degli stati nei quali sono fuggiti. Situazioni che hanno messo l'uomo di fronte ad eventi imprevedibili che si sono ripresentati a causa di una cattiva politica negazionista e che possono capitare ancora. Da qui la necessità di conoscere e comprendere la storia e la cultura armena, soprattutto da parte degli studenti, tramite anche la sua associazione. È una storia molto importante e anche il bisogno di trasmettere un messaggio che c'è un prima del genocidio ma ci deve essere anche un dopo, c'è tutto un filo di culture e di valori che può essere ancora condiviso. Le giornate con la storia continuano con altre attività, per divulgare e far conoscere gli eventi storici, non solo del nostro territorio, tramite diverse modalità espressive. Avremo una mostra, avremo uno spettacolo, un percorso anche in bicicletta con la collaborazione di Vivi la Bici e di altre realtà locali nei luoghi della guerra. Se riusciamo facciamo un catalogo e ci sarà poi sempre la nostra rivista periodica ogni due anni che raccoglie le principali attività svolte, non solo nel San Donatese perché noi operiamo a livello di Veneto orientale. Lo scopo, l'obiettivo che ci prefiggiamo è quello proprio di essere un po' anche di supporto per eventuali approfondimenti dopo l'evento, dopo la giornata. Quindi di suggerire eventualmente una bibliografia e della documentazione che soprattutto per le scuole possa sostenere eventuali sviluppi di ricerca ed eventuali altri approfondimenti. Grazie a tutti.